Il numero 87, ora passiamo alla classe RS Plus con Giancarlo Scervo della New Generation Il numero 87, ora passiamo alla classe RS Plus Il numero 87, ora passiamo alla classe RS Plus Passiamo ora al gruppo RS Plus La 1150 di Giancarlo Scervo La 1150 di Giancarlo Scencarlo Scencarlo Scenargo La 1150 di Giancarlo Scencarlo 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 Grazie a tutti. 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 2,54 e 29. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.